Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo dei nuovi Gregory, versione Miko da 25 litri e Maya, sempre da 25 litri. Adesso insieme ne vediamo pregi e difetti all'interno dell'accensione completa. Iniziamo come al solito dalle caratteristiche di questi Gregory. Per quanto riguarda i litraggi disponibili, questi Gregory sono disponibili in litraggi da 15, 20, 25, 30 litri. Attenzione perché cambiano un po' le feature in base allo zaino che prendete. Nel particolare noi, come abbiamo detto, stavamo provando i 25 litri che nel modello da uomo pesano 960 grammi e nel modello da donna 910 grammi. Detto ciò, iniziamo guardando nel pregi e difetti. Iniziamo come al solito dallo schienale che è a metà tra un ergonomico e un tensionato. È uno schienale con tecnologia Cool Control che promette una elevata traspirazione, ma devo dire che questa promessa non è molto mantenuta. Noi l'abbiamo usato in giornate molto calde e stive e ci abbiamo suddato parecchio. Il pro però è che avendo lo schienale a contatto con la schiena, il carico lo sentiremo molto bilanciato, quindi è uno zaino molto stabile. Infine, per quanto riguarda lo schienale, questo è regolabile in altezza attraverso un sistema di strap. Per quanto riguarda invece la fascia lombare, è abbastanza traspirante, il materiale è diverso rispetto a quello dello schienale, è un materiale più schiumoso. Questa fascia lombare non serve tanto per scaricare il peso quanto per stabilizzare lo zaino. A livello di peso, diciamo che ci possiamo portare 6-7 kg massimo. Gregory dice 11, ma secondo me 11 sono veramente troppi. Serve la fascia lombare in questo caso veramente solo per stabilizzare lo zaino, non tanto per scaricare il peso. Sempre sulla fascia lombare troviamo due grosse tasche, una a destra e una a sinistra, ci stanno tantissimi oggetti, e la chiusura sul davanti, classica come una clip fatta bene. Per quanto riguarda gli spallacci invece, queste hanno una sezione bella grossa, perché non essendo la fascia lombare che aiuta a scaricare il peso, quindi serviva una sezione bella ampia per distribuire bene tutto il peso che andiamo a trasportare, e grazie a questa sezione ampia comunque il peso sulle spalle si sente in maniera abbastanza ridotta, quindi comunque uno spallaccio che lavora molto molto bene. E sempre poi sugli spallacci troviamo anche la chiusura pettorale col fischietto, classica dotazione di design da trekking. Passiamo alla parte posteriore analizzando uno dei due lati. I due lati sono speculari, quindi hanno le stesse caratteristiche. Troviamo una tasca per la borraccia a rete, abbastanza ampia, che però non ha una cinghia per poter serrare la borraccia. Troviamo però una cinghia apribile con clip poco sopra e che serve a comprimere lo zaino. Per quanto riguarda la parte della borraccia, la tasca come detto è molto ampia e altropro riusciamo a prenderla e a riporla in autonomia. Parlando della parte posteriore vera e propria, iniziamo ad analizzando, come si può vedere, questa semplice tasca a rete abbastanza piccola, nel senso che non è grossa come tanti altri design da trekking, però comunque un secondo strato, una giacca permeabile ci sta dentro senza tanti problemi. Troviamo inoltre nella parte di destra la possibilità di portare i bastoncini, entrambi nella stessa zona, non sono suddivisibili. E per quanto riguarda invece le tasche, ne troviamo tre. Una piccolina posta nella parte proprio più lontana dalla schiena, proprio sopra, la tasca rete, in cui ci stanno bene degli occhiali da sole, qualche barretta, comunque oggetti molto molto piccoli. Una tasca principale molto grossa, in cui praticamente ci sta tutto il materiale che dobbiamo portare per un trekking di una giornata. E dato che non c'è il cappuccio su questo zaino, Gregory ha messo all'interno di questa tasca, nella parte superiore di una tasca rete, che diciamo va un po' a sostituire il cappuccio. E la terza e ultima tasca è quella proprio a contatto con la schiena, che Gregory riserva per la sacca idrica. Se non utilizziamo la sacca idrica, possiamo benissimo metterci dentro qualcos'altro. Ad esempio, io ci ho messo dentro il cambio di vestiti, con il secondo strato e la giacca impermeabile, ci stavano benissimo. Unica cosa, attenzione, è una tasca dove possiamo mettere dentro degli oggetti, anche abbastanza lunghi, però devono essere sottili, perché comunque non è una tasca molto grossa dal punto di vista della capienza laterale. Per quanto riguarda il comparto acqua, abbiamo quindi la possibilità di riporre una sacca idrica, oppure due borracci sulla parte laterale. Mentre per quanto riguarda il rain cover, questo è assente. È un grande difetto che abbiamo individuato in questo zaino, perché pur essendo pensato per un'escursione giornaliera, non è detto che il tempo sia sempre bello, quindi non è detto che durante la nostra escursione ci sia sempre il sole e che non possa avvenire un temporale improvviso. A noi è capitato e essere senza rain cover ha fatto sì che gli zaini si bagnassero completamente. In compenso, però, abbiamo potuto constatare che gli zaini si asciugano molto velocemente. Datto ciò, arriviamo alle conclusioni per questi Miko e Maya. Allora, vengono venduti online a un prezzo tra i 100 e i 110 euro. Sul sito di Gregory vengono dati sui 150. Ve li consigliamo? Sì. Sì, noi ci siamo trovati abbastanza bene. Veramente, la parte che non ci sia il rain cover è una grossa mancanza. Però, alla fine, a livello dei materiali, sono fatti molto molto bene, perché comunque noi ci abbiamo fatto anche dei passaggi di roccia e lo zaino è ancora integro, quindi ci siamo trovati molto bene. E in più? Sono utilizzabili anche per la vita di tutti i giorni, tranquillamente. L'unico contro è che non abbiamo la possibilità di staccare la fascia lombare, però comunque sono davvero utilizzabili per la vita quotidiana. Sì, dunque diciamo uno zainetto che può andar bene sia dall'ufficio, magari in più nella colorazione grigia, che alla montagna. Detto ciò, ragazzi, noi abbiamo speranze assate e esaurenze sostive anche per questo video. Vi ringraziamo per averlo guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao! Ciao!